La Parma Roma, è vero Valentino Nizzo, andiamo al Museo Etrusco con lei questa notte. Di Villa Giulia, anche questa è una residenza rinascimentale che ha avuto l'ingegno di Vasari, Michelangelo, Ammannati e Vignola, che ospita il più importante Museo Etrusco al mondo, che a sua volta ospita da qualche giorno un'importantissima mostra dedicata alla più importante città etrusca dell'Adriatico, una delle più significative del Mediterraneo. Visse tre secoli, spina, dal 520 a.C. fino ai primi anni del III secolo e raggiunse una gloria eterna, meritandosi la stima dei greci insieme a Cerveteri e a Delfi, avevano un luogo dove consacrare i propri doni votivi. Questa mostra non è soltanto archeologia con 700 capolavori, ma è anche storia e soprattutto mito. È un modo per conoscere quello che alcuni ancora oggi chiamano il mistero degli etruschi, ma che in realtà è un mito ricostruito ideologicamente dai greci per spiegarsi popoli diversi dai propri. Un po' come i miti inventati da Tolkien, siamo a 100 metri dalla Galleria Nazionale di Arte Moderna, quindi se volete fondere i miti moderni e scoprire la storia, i miti antichi e il modo in cui essi sono ricostruibili attraverso le testimonianze archeologiche, potete venire a Villa Giulia e avrete modo di assistere ad uno spettacolo che non è solo offerto da centinaia di capolavori, ma anche da apparati multimediali che servono a raccontare a tutti il fascino del mondo antico.